Non era la prima volta che andavo a casa, mi sono trovato questa volta come di fronte alla mia Umbria amata il giorno dopo il terremoto, tutto in terra. In Umbria era stato il terremoto, qui un'operazione militare mirata, precisa, condomini dove sono state distrutte tutte le tamponature e la gente vive con un freddo birbone dentro gli scheletri delle case. Con queste parole accorate l'arcivescovo Riccardo Fontana ha descritto la sua esperienza in Terra Santa, dove si è recato dall'11 al 15 gennaio per prendere parte alla Holy Land Coordination, l'organismo che raggruppa vescovi e rappresentanti delle conferenze episcopali di Stati Uniti, Unione Europea e Sudafrica, cui aveva preso parte anche nel 2012. Un viaggio pellegrinaggio per affermare la dignità umana in Terra Santa, visitando le comunità cristiane di Gaza, Sderot, Hebron, Gerusalemme e Betlemme. E ciò di cui più ha bisogno è la gente della Terra Santa, non soltanto di cose, non di strumenti, di servizi e neanche di parole, di politica, hanno bisogno di dignità. Nel quindicesimo incontro della Holy Land Coordination, in cui hanno preso parte 16 vescovi, l'incontro con la comunità cristiana di Gaza ha rappresentato uno dei momenti chiavi della visita, realizzata dalla delegazione episcopale. I vescovi hanno toccato con mano le conseguenze dell'intervento militare israeliano bordo di protezione, che ha provocato tra la popolazione della Striscia più di 2.000 vittime, compresi più di 500 minorenni. Qui i vescovi hanno celebrato la messa insieme alla comunità cattolica locale e visitato le scuole cristiane e i presidi sanitari. Il vivere in Gaza è una prigione a cielo aperto, dove 1.200.000 persone campano come possono, sopravvivano. Due neonati, quando noi eravamo in Gaza, sono morti e assiderati. Non c'era neanche il bue e l'asinello.